notti magiche inseguendo il gol ragazzi siamo senza parole ciao amici di Star Casino Sport è stata una bellissima partita la Spagna è una bella squadra possesso di palla spettacolare a Spagna però si mette forte ma giù è stata un'emozione se andiamo a ricordo a una Roma pare il ricordo e così è stato chi l'ha sbagliato? ha sbagliato Morata Morata che ha fatto tanto perché poi noi siamo andati in vantaggio con un grandissimo gol di Chiesa in finale domenica li aspettiamo stavo dicendo un gran gol di Chiesa poi ha pareggiato Morata io ai supplementari pensavo di perderlo la becca che c'è in Italia secondo il mio punto di vista è l'attacco è un po' l'attacco la punta sia i mobili che però il gruppo ci sta il gruppo c'è il gruppo c'è e i supplementari ti stavo dicendo pensavo di perderla pensavo di perdere i supplementari in campo dico io donnarumma donnarumma anche per me davvero tanta roba stavo dicendo ai supplementari io pensavo di perderla poi siamo andati in rigori il primo tempo loro gli ultimi 7-8 minuti siamo stati noi a giocarla bene è uscito poi Chiesa è uscito in signe il gol non mi aspettavo di Morata poi siamo andati in rigori ha fatto una bella azione dai ha sbagliato ha sbagliato Locatelli il primo rigore no mi sono sbagliato di tutto io però regalo ma io ci ho creduto perché ci dovevamo credere ho visto il portiere della Spagna non è che sia granché però noi ci abbiamo creduto siamo stati un gran gruppo un gran portiere bravi rigoristi bravo Bernardischi bravo Pelotti Bonucci bravi tu bravo Giorgini a tirare l'ultimo calcio di rigore Giorgini è il pallone per me e per noi e il pallone d'orso lo merita campione del mondo e ora finale degli europei quindi tanta roba e ci ha portato anche lui con il rigore decisivo in finale che ti regalo è un'emozione indescrivibile veramente i commenti assolutamente commentate commentate siamo in finale forza c'è il magnate dai ma tu te lo aspettavi di andare in finale io l'ho già detto prima o meno io no no dico dall'inizio degli europei no all'inizio degli europei no non mi aspettavo però vedendo giocare l'Italia dai è giocato bene sta giocando bene girone perfetto ottavi quarti ragazzi è nostra voglio questa coppa ce la meritiamo noi per tutti i tifosi italiani per tutto quello che ha passato l'Italia per il gruppo Inghilterra passato l'Inghilterra si Italia e Inghilterra Italia e Inghilterra ci giocheremo tutto domenica non vedo l'ora c'hanno pure tutto il pubblico giocando in Hawaii pure loro assolutamente che sudata bella dai però emozione voglio io sono stato senza non ho voce sono senza parole è qualcosa di indescrivibile poi è una gioia per tutti noi tifosi per tutto il gruppo per quello che abbiamo passato dai ci sta Spinazzola anche per tutto il gruppo per tutto il Mii per Mister sai cosa ti fa capire in Italia? gioca male in signe entra si è il gruppo che funziona anche chi entra dalla panchina vedi Belotti Bernadeschi non era facile anche perché noi non ci aspettavamo una Spagna che dominava hanno fatto uno molto stupendo stupendo di Morata dobbiamo dire la verità e pure Chiesa ha fatto un spettacolo complimenti alla squadra di Ulises Enrique che però c'è Cotto e si mette un forte c'è il magnam e siamo in finale siamo in finale dove tutti non ci volevano dove nessuno se lo aspettava noi siamo lì in finale a giocarci la domenica a Wembley contro Inghilterra o Danimarca vedremo molto probabilmente in Inghilterra ma non si sa mai magari magari ragazzi noi vi lasciamo grazie mille a tutti per i per i bei messaggi che ci mandate sempre forza Italia noi godiamo tanto ci vediamo domenica ci vediamo in finale ciao Pagliu forza Italia ciao Pagliu ciao Pagliu